Ciao, ci pensi che ogni giorno noi usciamo di casa, andiamo in posti comuni come la scuola, il teatro, la palestra, il cinema e ogni giorno noi produciamo energia, energia che purtroppo viene sprecata. Ciao bello! Sarebbe bello riuscire a prendere questa energia e sfruttarla, utilizzarla, riuscire a prenderla e utilizzarla per fare qualcosa di utile. Purtroppo molti di noi vedono solo ed esclusivamente pagine bianche, il nostro obiettivo è prendere queste pagine bianche e trasformarle, imprimerci dentro le nostre idee. Cosa ancora più difficile, riuscire a dare dei colori, i nostri colori, a queste idee. Beh, un modo per farlo? Ci sono delle mattonelle che riescono a trasformare l'energia dei nostri passi, l'energia cinetica, in energia elettrica. Beh, se riusciamo a accendere le nostre idee, perché non riuscire a accendere le nostre scuole? Un esempio? Con 10.000 passi, noi saremmo in grado di accendere il Colossovri un'intera giornata. Unica cosa che per fare questo non si può essere da soli. Per finire queste idee bisogna essere tutti, bisogna essere in gruppo. Un'altra cosa positiva di questa idea è che è completamente ecosostenibile, senza inquinamento e senza produzione di CO2. Beh, come fare? Come ho detto prima, non si può essere da soli, bisogna essere tutti. E ce la faremo insieme, passo dopo passo.